Che cos'è il cinema? È cultura, sogno, passione, arte, luci, ombre, tecnica, sceneggiatura, trama, ciak, immagine, colore, movimento, fotogramma, idea, progetto, sacrificio, sperimentazione, emozione, nostalgia, speranza, messaggio, azione. Il mio amore per il cinema nasce fin dall'infanzia, il buio in sala, l'odore dei popcorn che si fonde con la tappezzeria dei sedili, il fascio di luce che disegna sogni sullo schermo che ti sembra quasi di poter toccare, la felicità di assistere a qualcosa di unico e che non ripeterai per chissà quanto tempo. Ed eccolo il punto debole, l'impossibilità di gustarti un'altra volta l'emozione di quel sogno ad occhi aperti. Tornavo a casa e chiudevo gli occhi, mi sforzavo di ricordare, tentavo di dirigere nella mia testa quelle immagini che mi avevano tanto emozionato, incubi o sogni che fossero, mi eccitava avere paura, mi eccitava riassaporare l'incanto del mondo dei sogni, l'adrenalina che mi pompava mille nel corridoio buio che mi separava dal bagno dopo un film spaventoso, o quel forte candore che mi inebriava l'anima per giorni se il film mi aveva fatto sognare, ma il tempo cancella tutto. E allora l'emozione svaniva e ricordo diventava sempre più sfocato. Una sera però, nella mia vita entrò uno strumento che mi avrebbe cambiato per sempre, il videoregistratore, un portale che poteva catapultarmi a mio piacimento nel mondo dei sogni, uno strumento capace di darti tutta l'emozione che vuoi, un personalissimo genio della lampada sempre pronto a realizzare i tuoi desideri. La mia vita aveva un senso, nonostante la mia giovane età avevo trovato il mio più grande amore, il cinema. Certo, la sensazione di guardare un film in sala ha sempre il suo fascino, è quasi la vera essenza del cinema, ma personalmente il cinema, il mio cinema, è il VHS. Il supporto poi è diventato DVD, Blu-ray e On Demand, ma il vero grande amore, forse l'unico grande amore della mia vita, è il VHS. E ben presto imparai non solo ad utilizzarlo nonostante avessi solo 6 anni, ma imparai subito l'importanza di creare una mia videoteca. Una sorta di DNA costituito da custodie, adesivi, pressa scart e cassette da 90 minuti, 120, 180 e 2.40. Mi segnavo i giorni e gli orari dei film da registrare, che all'epoca erano rigorosamente alle 20.30, con la certezza di poter rivivere la magia tutte le volte che volevo. E se il film mi aveva preso davvero tanto, ritagliavo la locandina dal TV Sorrisi e Canzoni e la incollavo sulla custodia. Era il mio modo per omaggiare chi mi aveva dato tanto amore, come quando facevi un disegno con i colori a cera per la mamma. La custodia rappresentava proprio l'atto di custodire quel ricordo, quell'emozione, nel mio cuore, per sempre. Poi arrivò il tempo della videoteca, il pusher delle emozioni, il museo dei sogni. Ogni volta che entravo in una videoteca sentivo delle forti vibrazioni, come se ogni VHS mi chiamasse, mi cercasse e mi seducesse come le sirene di Ulisse. Erano tutte lì che mi fissavano. E io le guardavo con profonda ammirazione. Occhi dolci per il film che conoscevo già e che faceva già parte del mio archivio e sguardo seducente per quel film che non avevo ancora, ma che mi attirava. E poi c'era il videotecaio. Avevano sempre l'atteggiamento del pusher che è interessato soltanto a piazzarti il titolo e ad incassare le sue luride 3000 lire. Finché non arrivò lui, Leo. Un anziano signore sull'ottantina che amava il cinema e le VHS come me. Avevo vent'anni, non ero più un bambino. Ma il nostro rapporto è paragonabile a quello tra Sebastian e il vecchio bibliotecario. E davvero, le sue videocassette erano un viaggio a fantasia. Aveva titoli unici. Oggi con internet on demand e torrent vari è tutto più semplice. Ma vent'anni fa era un po' complicato poter vedere tutto quello che volevi. Ma Leo aveva la chiave che apriva il portale del mondo che sta ai confini della realtà. Nella sua bottega c'era un forte odore del suo cane che si mescolava all'odore di antico. Mi accoglieva sempre bene perché sapeva che aveva di fronte non solo un cultore, ma un romantico amante del suo universo. Passavo le ore a passeggiare nel suo archivio che sembrava diventare sempre più grande. Leo non era solo un videotecaio. Certo, non un amico, ma un complice. È stato davvero importante per me. Grazie a lui ho imparato ancora di più di quello che già sapevo. E sarà il caso, o forse l'ho fatto inconsciamente, ma quando Leo morì, e con lui un archivio storico, smisi di affittare ed acquistare VHS, e mi convertì anch'io al DVD. Il VHS rappresenta ancora oggi la più grande conquista della mia vita. La magia tangibile. Il bottino di Prometeo. Avevo la possibilità di intrappolare quelle emozioni come la trappola dei Ghostbusters, e non farle andare via. Non farle cancellare dal tempo e dalla memoria. L'emozione restava lì, con me, e potevo riviverla tutte le volte che volevo. Bastava riavvolgere il nastro e combattere contro i fottuti Viet Cong. Ballare angel. Sfidare i criminali che tanto mi terrorizzavano. Provare gioia e felicità con un centinaio di cani. Imparare a crearti l'occasione. E combattere fino all'ultimo round per proteggere quello in cui credi. A volare con la fantasia e con la superforza. A capire che la vita ci metterà sempre di fronte a tante difficoltà. E che il tuo nemico è sempre dietro l'angolo. Pronto a sferrare il colpo quando meno te lo aspetti. Ma non per questo devi farti sopraffare. Ma anzi, è lì che devi capire te stesso. Rialzarti e tornare a combattere. E capirai quanto non sei così debole come pensavi o come gli altri ti hanno fatto credere. Questo per me è stato il cinema. Una tata amorevole che non solo mi ha insegnato a camminare sui nastri magnetici, ma che mi ha plasmato con l'insegnamento in quattro terzi dei miei eroi. Per raccontare questa storia, non potevo che avvalermi del sostegno di un mio amico fraterno che non solo mi ha dato il là all'idea di realizzare un video che parlasse del mio rapporto con il VHS, ma che mi ha fornito di queste strepitose immagini da lui realizzate. Non posso svelare il suo nome sempre per tutelare la mia identità, ma posso dirvi che se c'è una persona che conosce bene l'amore per il VHS, questo è proprio il mio caro amico di Mille Battaglie. Ci siamo conosciuti proprio davanti a una videoteca. Questo video è in realtà una dichiarazione d'amore. Un amore che mi ha reso quello che sono, un amore che mi ha forgiato negli anni e che mi ha riempito di grandi emozioni. Un amore tra un uomo e una macchina che può sembrare qualcosa di inumano, ma io credo che sia la più bella e più importante storia della mia vita. E nell'amore di inumano non c'è niente. Grazie.